Quello che posso invece notare e osservare è che nei mesi precedenti a questa sua elezione il neo sindaco di Roma, Gualtieri, ha proposto poca attenzione per la capitale. Nel momento in cui aveva l'occasione come ministro dell'economia a distanziare delle risorse adeguate proprio attraverso il PNRR, beh, non l'ha fatto. Nel momento in cui avrebbe dovuto difendere fortemente l'approvazione delle maggiori risorse e maggiori poteri per Roma, non l'ha fatto. Fratelli d'Italia ha presentato una mozione in Parlamento per il riconoscimento di poteri per la capitale d'Italia come quelli che sono riconosciuti a ciascuna capitale europea e in questo c'è stata soltanto Fratelli d'Italia a difendere questa richiesta, a promuoverla e a costringere il Parlamento a definirso, ma in realtà le forze di maggioranza e quindi lo stesso PD non ha votato a favore.